Non si commentano mai le sue parole, avrei voluto regalargli una vittoria, abbiamo fatto una grande partita di spirito e sacrificio ma non è bastato. Così il tecnico del Milan, Pippo Inzaghi, replica ad alcune domande sul commento di Berlusconi dopo il K.O. di sabato con la Juventus. Non fanno ciò che dico, aveva detto il patron, ma il presidente oggi mi ha chiamato, aggiunge Inzaghi alla vigilia della gara con l'Empoli, e mi ha confermato che è contento dello spirito. Poi ci ha augurato buona fortuna per domani perché è una partita importante. I rossoneri infatti sono chiamati a riprendere il loro cammino in campionato, che passa dalla difficile trasferta in Toscana nel turno infrasettimanale. L'Empoli ha fatto tre ottime partite e l'analisi di Inzaghi non merita la classifica che ha. Gli uomini di Sarri corrono molto e sono molto ben organizzati, sarà una gara insidiosa. Ma noi siamo in un momento positivo e dobbiamo fare la nostra partita. Ho una buona rosa e posso far riposare chi è stanco. Il suo Milan tornerà in Champions? Ce la metteremo tutta, dobbiamo dare continuità ai risultati.